Di seguito, alcuni suggerimenti per l'utilizzo del pediluvio FB30 di Boehrer. Attenersi alle istruzioni per l'uso e alle avvertenze di sicurezza. Per aprire il pediluvio ripiegato, premere con una mano sul fondo del pediluvio e con l'altra mano tirare verso l'alto il bordo superiore. Riempire l'apparecchio con acqua fino all'indicatore di riempimento massimo. Collegare l'apparecchio. Sedersi in posizione comoda e appoggiare i piedi sulla soletta esercitando una lieve pressione. A questo punto, accendere l'apparecchio con il pulsante Funzione. Il massaggio vibrante, l'idromassaggio e la regolazione della temperatura dell'acqua sono azionati contemporaneamente. Premendo di nuovo, vengono attivati i punti luce a infrarossi. L'accessorio per pedicure al centro consente di rimuovere i duroni. Esso può essere smontato per la pulizia. Dopo l'uso, svuotare il pediluvio. Infine, risciacquare l'apparecchio e asciugarlo con un panno. Ci auguriamo che sarete soddisfatti del pediluvio FB30 di Beurer.